Ilari, in questi giorni state raccogliendo tante testimonianze su queste maxibollette, così? Sì, abbiamo ricevuto decine e decine di segnalazioni telefonate dagli imprenditori che si sono sentiti abbandonati. Guarda caso, a poche ore dalla chiusura delle urne, vedersi recapitare multe o cartelle esattoriali, chiamiamole come volete, per l'escussione dell'Atario, del mancato pagamento dell'Atario, è veramente una cosa che non ha né capo né coda. E ci tenete a precisare il fatto che questi imprenditori non sono degli evasori? Assolutamente no, secondo noi gli imprenditori sono dei veri e propri eroi. In un momento del genere affrontare il mercato del post-Covid è qualcosa di incredibile e vessare i nostri imprenditori che spesso anticipano la cassa integrazione, i propri collaboratori, i propri dipendenti che altrimenti non avrebbero di cui vivere, visto che l'Inps è latitante da mesi, è qualcosa di eccezionale e noi dobbiamo essere al loro fianco piuttosto che essere vessati da questo balzello aggiuntivo che è la riscossione dell'Atari. Ci puoi riportare alcuni esempi? Assolutamente sì, ci sono dei casi veramente borderline, pensate che ci sono attività che da 20 anni lavorano nello stesso identico modo di sempre, senza variazioni catastali. Ebbene, unilateralmente invece si è deciso che un'area che prima era magazzino oggi deve diventare un'area produttiva con un aumento chiaramente del costo dell'Atari. Ma se è 20 anni che un'azienda lavora in questo modo, perché oggi dobbiamo per forza fare cassa facendo spendere a queste aziende anche dei soldi per poi potersi difendere nelle sedi opportune per poter impugnare queste multe? Un altro caso, veramente limite borderline, ne parlavo poco fa proprio con il diretto interessato, un imprenditore che nel 2015 ha dovuto chiudere la propria attività e che aveva in affitto un immobile. Ebbene, si è visto recapitare una multa perché non avrebbe pagato fino al 2018 l'Atari su un immobile che non aveva più, lo stesso immobile è stato subito affittato dopo la chiusura della prima ditta e sul quale tuttora viene pagata l'Atari. Quindi cosa facciamo? Escutiamo due volte l'Atari sullo stesso immobile e addirittura lo chiediamo a una figura giuridica che non esercita più da almeno 5 anni. È una cosa veramente che non sta né in cielo né in terra. Che cosa ha contestato il Comune di Fano? Ma secondo noi l'amministrazione comunale negli ultimi periodi si sta veramente nascondendo dietro il privato a cui ha comunque dato l'incarico di esercitare il ruolo che sta esercitando senza metterci la faccia. Il sindaco deve prendere una posizione netta e chiara, affiancare i nostri imprenditori e far sì in tutti i modi che si possa stralciare queste multe o queste cartelle esattoriali. Per noi gli imprenditori, per noi della Lega gli imprenditori sono degli eroi.